Salve a tutti, sono Vincenza Vallone, ho 57 anni, vivo ad Alcamo in provincia di Trapani e faccio la dirigente scolastica. Mi è sempre piaciuto saper parlare bene e comprendere bene la lingua inglese, sia perché amo molto viaggiare, ma anche per il lavoro che faccio in quanto la mia scuola ha molti gemellaggi con scuole europee e chiaramente la lingua veicolare e l'inglese. Trovo il corso di inglese di Monica veramente interessante, all'interno della Masterclass ci sono dei materiali importanti per consolidare le basi grammaticali e inoltre ho trovato veramente stimolante tutte le attività che sono presenti all'interno della pagina Facebook The English Academy. Grazie Monica e continua col tuo impegno per implementare l'inglese.